Io tengo il Mercedes troppo per denunciarti, quindi non l'ho fatto e per me è già una vittoria questo che sto vedendo. Per il resto faccio un passo indietro e spero che si risolva tutto. Voglio una famiglia e tu spero un giorno sarai la nonna dei miei figli. Non mi sembrava giusto privare una nonna con una denuncia. Mi spiace che hai fatto questo nei miei confronti perché penso di non meritarlo, penso che questi ragazzi non si merita una croce così addosso. Hai appena dichiarato che tu non dici bugie. Attenzione perché ce ne sono state una piramide di bugie in questa situazione. Ho evitato di fare la denuncia Eva, la cosa era molto grave quella che hai fatto nei miei confronti. Tu mi hai accusato di violenza nei confronti delle donne. Io non ho mai toccato questo. No, delle donne. Io ho parlato di uno schiaffo. Un abbraccio c'è alla fine o continua quest'altra? Ma l'abbraccio deve essere anche con Luca. Dai. Ma perché? Brava Eva! Brava Eva! Però Luca... Barbara è già una vittoria, è già una vittoria personale che si sono chiarite loro. Almeno un passo alla volta. Grazie. 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 Grazie.